Con un gruppo della sezione CAI di Mugio, oggi domenica 8 aprile 2018, interprenderemo un trekking tra Sori, Recco e Gamogli. Queste località fanno parte del Golfo Paradiso, splendida insediatura alle porte di Genova. Eccoci qua, siamo arrivati in Liguria. Sori, Borgo Marinaro del Golfo Paradiso. Nella preistoria le sue alture furono punto di rifugio e di caccia dei primi Liguri. La chiesetta di San Rocco, chiusa naturalmente. E la nostra passeggiata comincia con questa bella lunga e ripida scalinata. Ciao, ciao, ciao. La Maria che ci sta rendendo. Sori, ci stiamo preparando per il trekking, perché dopo non possiamo la lingua. Speriamo di farcela. Sì. 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 Grazie a tutti Ok siamo arrivati a Camogli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti